Ripresa degli allenamenti all'Appartegno Lombardi per un Avellino che comincia a preparare la sfida di lunedì sera contro il Sorrento dove alle 20.45 proprio qui all'Appartegno i Lupi cercheranno di tornare, almeno la vittoria in casa dopo aver espignato lo Zaccheria di Foggia. Alle mie spalle la truppa di mister Michele Pazienza, assente Simone Benedetti, dovrà operarsi al menisco e quindi probabilmente finirà fuori lista. Al suo posto la notizia di mercato è che arriverà Paolo Frascatore della Turis classe 1992 romano, difensore di esperienza Mancino che darà soluzioni importanti a mister Michele Pazienza, quindi subito arriva il sostituto di Benedetti, assente anche Marco Armelino per lui, per la sua caviglia nulla di grave, probabilmente salterà la sfida contro il Sorrento ma tornerà prestissimo a disposizione del tecnico e poi assente sempre per uno problemino muscolare Salvatore Pezzella che non si è visto qui al Partenio Lombardi. Si continua a lavorare, è un Avellino che vuole raggiungere la vetta che dista adesso 4 punti dal Juve Stabia e sicuramente il match contro il Sorrento non sarà dei più semplici visto che i costieri di Maiuri si ritrovano in piena zona playoff in un momento veramente eccellente.